Per chi si occupa anche di questioni di minor pregio e di minor conto, per esempio gli ascolti o la popolarità, a parte la qualità, gli ascolti e la popolarità, questo sport, e lo chiedo a Milena Bertolini, questo sport ha fatto dei numeri incredibili, il calcio femminile negli ultimi tempi in televisione e quello che diceva Sara Gama poco un momento fa, cioè l'essere, per esempio le colleghe americane stanno facendo una battaglia per dei diritti molto avanzati, mi viene in mente che il discorso della capitana americana Megan Rapinoe, la ragazza con i capelli viola, è stato un discorso motivazionale che hanno condiviso milioni e milioni di persone, immagino che lo abbiate visto molte volte anche voi e a chi non l'ho visto lo consiglio. Milena? Beh sì, il calcio femminile è seguito sempre di più, ma semplicemente perché chi guarda una partita di calcio femminile riesce ad apprezzare le qualità delle giocatrici, il mondiale l'ha dimostrato, è un calcio che piace, sia da un punto di vista tecnico, tattico, di espressione di gioco, ma anche per quello che trasmette, i valori che questo sport trasmette è che hanno un po' toccato l'anima di tutte le persone. Da quel mondiale, poi insomma molti italiani e italiane seguono il calcio femminile e il fatto anche che la 7 abbia preso i diritti, il fatto che negli anni precedenti ci sia stato Sky, il fatto che i numeri siano sempre più alti lo dimostra. Ma questo grazie insomma agli investimenti e alle politiche fatte negli ultimi anni, perché se le partite di calcio femminile stanno crescendo di qualità, è grazie al fatto che la federazione ha fatto degli investimenti, i club professionistici stanno facendo degli investimenti e il passaggio successivo per elevare sempre di più la qualità del gioco è quella di passare al professionismo. Quello che hanno fatto queste ragazze, che secondo me è stato qualcosa di incredibile al mondiale, cioè di riuscire ad arrivare ai quarti, entrare tra le prime otto al mondo ed essere l'unica squadra tra le prime otto al mondo a non essere professionista, ma essere praticamente tutte dilettanti, dimostra quanto sia il loro valore, quanto sia importante andare nella direzione del professionismo. Perché? Perché tu metti le ragazze nelle condizioni di potersi allenare, di poter fare il proprio lavoro al meglio, di poter fare il calcio al meglio e a quel punto si aveva la qualità. E gli ascolti che ci sono stati per noi non sono una sorpresa, perché sappiamo quanto sia entusiasmante, bello il calcio delle ragazze. Grazie.